Abbiamo la stessa capacità dei virus. Ce ne sono di due tipi, i parassiti intelligenti e quelli stupidi, che sono i più pericolosi, che sono quelli che colpiscono l'ospite e lo ammazzano. Noi abbiamo preso una strada che è catastrofica, però io ritengo che invece il nostro grande cervello, che è quello che ci differenzia da tutti gli altri esseri viventi, sia un vantaggio. Al momento lo stiamo utilizzando però come un bambino, come un martello con cui rompiamo le cose della casa. Però immagino che al più presto riusciremo a utilizzare questo martello per costruirle le case invece che per distruggerle.